Benvenuti allo Scavolini Store Pesaro. Vi aspettiamo nel nostro showroom con spazi dedicati dove potrete visionare colori e materiali seguiti dalla consulenza di Interior Designer. Esperienza e professionalità vi accompagneranno nella scelta del giusto arredamento per realizzare i vostri sogni. Da Scavolini Store Pesaro, il top cucina ingress è tuo con il 50% di sconto.